Dopo un'intensa attività d'indagine svolta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Napoli-Vomero e coordinata dalla Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti, è stato notificato da diversi dirigenti scolastici pro-tempore dell'Istituto Comprensivo Statale Ignazio di Loyola di Napoli un invito a dedurre con cui vengono contestate delle condotte negligenti che hanno cagionato un danno irrariale per complessi Vero 26.775. I fatti contestati riguardano l'ex alloggio del custode della scuola ormai deceduto da oltre dieci anni e da loro occupato illegittimamente dai suoi eredi, i quali nel corso del tempo hanno altresi usufruito indebitamente della fornitura idrica che serve l'Istituto. Le indagini hanno permesso di acclarare una colpevole inerzia da parte della dirigenza scolastica pro-tempore che, avendo appreso dagli stessi occupanti che intendevano continuare ad esercitare abusivamente le loro mansioni, ha omesso di denunciare tale stato di cose. In particolare l'omessa segnalazione all'ente locale ha impedito che quest'ultimo intraprendesse tempestivamente le dovute azioni di tutela per addivenire alla liberazione dei locali e si attivasse per esigere le somme dovute dall'occupante a titolo di risarcimento, prima che queste venissero falciliate dalla prescrizione. Fra le persone identificate dai militari all'atto dell'ispezione figura anche un familiare dell'ex custode che in passato era stato tratto in arresto poiché è sorpreso a coltivare delle piante di marijuana proprio nel cotere della scuola attivo all'alloggio. Degli accertamenti altresi è emerso che in alcuni casi la dirigenza scolastica pro-tempore ha addirittura fornito agli occupanti abusivi i codici dell'allarme dell'Istituto scolastico con evidenti ripercussioni negative sulla sicurezza del materiale didattico custodito. L'occupazione di tali locale ha inoltre recato un documento all'offerta didattica stante l'impossibilità di riempiegare gli stessi per sopperire al fabbisogno di aule ed ha interferito con il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, attesa la presenza di soggetti estranei a contatto con scolareschi di giovane età e che hanno avuto accesso indiscriminato agli ambienti scolastici.